Sono venuta perché non potevo stare a casa in questo momento, cioè non volevo sentirmi da sola perché è troppo difficile affrontare queste notizie di questi giorni. Sto parlando con i miei genitori e amici di tutti quelli che stanno a Mosca in quel momento e condivido insieme a loro quell'enorme dolore che c'è là.